Buonasera, ben ritrovati. Seconda parte di Angoli con noi in studio la dottoressa Francesca Ruffini, responsabile della delegazione di Como Fondazione Umberto Veronesi e poi Chiara Segre, supervisore scientifico sempre presso la Fondazione Umberto Veronesi. Buonasera a entrambe. Buonasera. Allora, in realtà dobbiamo partire ricordando subito un prossimo appuntamento, perché il prossimo lunedì, il 12 ottobre, al Teatro Sociale, l'appuntamento è quello di un charity dinner, quindi un'occasione di una cena di gala per fare del bene. Lascio a lei, dottoressa Ruffini, il compito di spiegare un po' meglio. La seconda nostra cena di gala di raccolta fondi, fondi che verranno interamente destinati alla Fondazione Veronesi, la quale sostiene vari progetti e in modo particolare noi ne abbiamo scelti un paio, che poi vi dirò. Ci sarà questa cena al Teatro Sociale con moltissimi partecipanti, perché ancora una volta, devo dire con grandissima gioia, come ha risposto numerosissima a questo appello. Ci saranno più di 500 persone. Ci sarà Davide Oldani, che sarà lo chef per la serata, ma non solo, perché interverrà anche per trasferirci tutte le sue filosofie di vita, che sono molto sane, sono basate su una cucina semplice, salutare, la necessità comunque di un'attività sportiva, quindi un testimonial, oltre ad essere uno chef che penserà a tutto il menù della cena, nonché anche a preparare tutta la cena, testimonierà anche la propria esperienza e come con la sua cucina pop che gli stesso ha inventato, è arrivato a questo grande successo. Devo dire, sarà un momento in cui verrà presentato quasi in anteprima, perché è la prima volta lo è stato fatto alla cena annuale della delegazione di Milano, il progetto SAM, che non è un attore del cinema, bensì saluti al maschile. Abbiamo scelto di presentare questo progetto sia perché vorremmo sostenere una borsa di ricerca nell'ambito di questa nuova idea che ha avuto la fondazione, sia perché secondo me è molto importante mettere risalto sul fatto che proprio nell'ospedale Sant'Anna di Como, nel reparto di urologia c'è una grandissima eccellenza, quindi è molto importante per me e soprattutto per tutta Como sapere che siamo comunque vicini a delle strutture super efficienti che hanno anche delle persone veramente importanti negli ambiti oncologici e non solo che operano in questo ospedale. Ecco, dottoressa Segre, senza entrare troppo nello specifico, però sottolineiamo un po' anche gli aspetti più prettamente scientifici della ricerca, a cui poi si indirizza proprio nel progetto della salute al maschile, il progetto SAM verso la salute degli uomini. Il progetto salute al maschile ha un dupleci obiettivo, da una parte quello di sostenere la ricerca scientifica nell'ambito delle malattie, soprattutto oncologiche, che colpiscono principalmente l'uomo, quindi il tumore al testicolo, il tumore alla prostata e il tumore alla vescica. Quest'ultimo è un organo che appartiene anche alla donna, ma il tumore alla vescica è molto molto più incidente nell'uomo, circa tre quarti dei tumori alla vescica sono a carico dell'uomo e non della donna, principalmente per un discorso legato al fumo. Gli uomini in passato fumavano molto di più e quindi hanno questo tipo di tumore maggiormente che nelle donne. Masam non è solo questo, quindi non è solo ricerca scientifica e sostegno alla ricerca, ma è anche mettere in campo tutta una serie di attività, e la cena di Como ne è una, per sensibilizzare gli uomini a prendersi cura di se stessi, a effettuare i controlli dall'urologo, figura che per l'uomo è quasi un nemico completamente sconosciuto, proprio per prevenire queste patologie, o se compaiono poter intervenire il prima possibile, che vuol dire aumentare le probabilità di guarigione. L'altro obiettivo su cui si puntano i riflettori con la cena del prossimo lunedì è quello del progetto Gold for Kids, che sostanzialmente, come mi ricordava lei poco prima di iniziare, rientro dalla pubblicità, è rivolto a quella fascia di età colpita dalla patologia oncologica, che forse è una delle più delicate, i giovani che hanno superato la fase dell'infanzia, e che quindi si trovano ad affrontare questo problema con ancora una sensibilità maggiore. Lascio spiegare a lei meglio di che cosa si tratta. Sì, il progetto Gold for Kids che abbiamo iniziato a sostenere l'anno scorso, infatti la città di Como è riuscita solamente con la propria raccolta a sostenere un protocollo, è un progetto dedicato ai pazienti, tra virgolette, pediatrici, ma diciamo che si ammalano in un'età compresa tra la pediatria e quella che è l'età adulta, cioè tra i 14 e i 18 anni più o meno, che per protocollo di ospedale verrebbero ricoverati in reparti adulti. In realtà, considerate la delicatezza della fascia di età, perché sono tutti ragazzi che si trovano nell'età di sviluppo, ognuno di loro necessita proprio di un protocollo specifico e delicato, in modo tale da poter massimizzare tutte le cure che verranno fatte, soprattutto rapportate al momento di sviluppo del loro corpo, quindi sarebbero in un reparto adulto, avrebbero un'attenzione ugualmente alta, però un protocollo forse meno adatto per il tipo di età. Quindi continueremo sempre a sostenere questo progetto, perché è un progetto che comunque avrà sempre bisogno di sostenitori, e la fondazione in questo è molto attiva e si prende proprio cura di tutti questi casi, di tutte queste tipologie, grazie anche proprio a delle strutture delicate. Quindi spero che riusciremo a raggiungere un ulteriore protocollo anche nel 2015. Allora io direi, interrompiamoci un attimo per far vedere proprio un file video che punta proprio a mettere, come dire, sotto gli occhi di tutti di che cosa stiamo parlando con questo progetto Goal for Kids. Lei è Alice, ha 7 anni e ha il cancro. Lui vive dentro di lei e la fa stare male. Ma Alice non è sola. Ci sono persone che l'aiutano e che possono cacciarlo via. Anche loro però non devono restare sole. Hanno bisogno del tuo aiuto perché possono aiutare Alice. Aiuta la fondazione Veronesi a finanziare le migliori cure per i bambini malati di tumore. Scopri come fare su www.goal4kids.it Ehi, parlo subito però. Bellissimo, devo dire davvero molto toccante anche nella semplicità della scelta delle immagini. Sì, anche perché comunque Fondazione ha sempre un messaggio molto positivo. Perché anche grazie alla positività che si reagisce meglio alle situazioni. Devo dire questo messaggio è veramente... A proposito di positività, l'appuntamento di lunedì al sociale con questa charity dinner ospiterà anche la testimonianza di una scrittrice comasca che ha proprio raccolto la sua positiva esperienza in un libro. Esattamente. Ci sarà Laura Scarpa Colombo che purtroppo ha avuto un tumore dal quale è guarita, è uscita. E ha ritenuto necessario, ma più che per se stessa, forse per tutte le persone che non sono ancora uscite o sono, scrivere un libro raccontando la sua esperienza. Ed è un libro che alla fine trasmette un messaggio di totale positività. Soprattutto perché la quotidianità di queste malattie tante volte da chi non sa viene completamente trascurata. È riuscita invece lei di questa quotidianità a farne una distrazione, a scrivere un diario, a trasformarlo in un libro e oltretutto ha anche deciso di devolvere parte degli incassi di questo libro proprio alla Fondazione Umberto Veronesi. Quindi lo stesso verrà venduto durante la serata stessa e poi continuerà ad essere ovviamente presente nelle librerie. Ma di questo sono molto felice perché i messaggi positivi sono i messaggi che danno anche coraggio per pazienti o per persone che magari in questo momento non si trovano proprio nelle migliori delle situazioni. Certamente, saper reagire è esattamente il primo passo per la guarigione sia da parte del paziente, del malato che anche dei familiari, immagino. Assolutamente, assolutamente. Allora, ricapitoliamo però perché è anche un momento questo per fare bilanci del successo dello scorso anno. Lì l'appuntamento era un po' più avanti, era la fine di ottobre, se ricordo bene, ancora 500 i partecipanti, le persone che hanno accolto positivamente l'iniziativa e so che grazie a quella serata avete segnato un importante successo, siete riusciti a finanziare? Sì, siamo riusciti a raccogliere innanzitutto 70.000 euro. Di questi 70.000, 30.000 sono stati utilizzati per una borsa di ricerca nella nutrigenomica che poi Chiara vi spiegherà meglio e con gli altri 40.000 è stato aperto un protocollo proprio per Goal for Kids. Quindi gli obiettivi per la prossima raccolta saranno quelli ovviamente di continuare a sostenere il progetto Goal for Kids tanto quanto saranno generosi comaschi e la borsa di ricerca verrà destinata proprio al nuovo progetto di SAM. Soprattutto anche, ribadisco, sottolineando il fatto che a Como c'è una superstruttura e dà molta sicurezza a questa cosa, fa molto bene, diciamo, a me quando l'ho saputo ha fatto star bene e soprattutto dà fiducia anche a tutti coloro che stanno nel nostro territorio. Benissimo, purtroppo il tempo a disposizione in realtà è terminato, però io approfitto subito per rinvitarvi e aver modo quindi di approfondire anche come andrà la settimana, la prossima cena, lunedì prossimo e quindi ci sarà un po' di nuovo un'occasione per fare il punto e per riparlarne. Intanto per il momento dottoressa Ruffini la ringrazio moltissimo, allo stesso modo la dottoressa Chiara Segre, grazie mille per essere state con noi, alla prossima. e noi adesso invece ci dobbiamo separare perché Angoli, come sempre, torna domani. Adesso vi lascio a tutte le notizie di ETG Prima Pagine a seguire Target. A domani!